Ben ritrovati a una nuova puntata di 4 chiacchiere con continua il nostro viaggio attraverso i comuni che andranno ad elezione alle prossime elezioni amministrative, alla prossima tornata. Oggi parleremo dei 5 anni di mandato di Marco Succio, benvenuto sindaco di Aglie. Grazie Magda. Un sindaco giovanissimo, sei stato eletto veramente giovane. Sì, ho iniziato in realtà da assessore ancora più giovane quando avevo 27 anni, a 32 sono diventato sindaco. Adesso mi appresto a finire questo mandato, insomma con grande soddisfazione. Come sono stati questi 5 anni e com'è stata lavorare con la tua squadra? 5 anni sono stati entusiasmanti e gratificanti, sicuramente anche faticosi. Hai detto squadra e per me la squadra è sempre stato un elemento importantissimo. Ho sempre cercato di mettere al centro di ogni azione amministrativa le persone. Ho un gruppo variegato, sia dal punto di vista anagrafico che dal punto di vista delle competenze. e ciascuno ha dato un grandissimo contributo per la causa, ciascuno appunto per le proprie competenze, per il tempo a disposizione e sono molto soddisfatto di questo. Io ho dato ampi spazi e deleghe a tutti, assessori e consiglieri, e di questo sono stato ripagato perché veramente c'è stata un'azione costante, l'entusiasmo non è mai venuto meno e grazie a questo, grazie alle persone, siamo arrivati ad ottenere dei buoni risultati. Un gruppo compatto e unito, cosa che non è da poco. Sì, assolutamente. In 5 anni di amministrazione non c'è mai stato nessun momento di lite, di discussione accesa, al massimo scambi di idee, come è normale che sia, ma si è sempre giunti a una sintesi e quindi chiaramente anche l'ambiente in cui si opera, un ambiente sereno, aiuta ad ottenere dei risultati. Ripercorriamo un po' il lavoro che è stato fatto in questi 5 anni. Direi di partire dalle opere pubbliche, quindi delle cose più importanti. Sfaltature, strade, parti. Diciamo che abbiamo limitatamente, chiaramente, a quelle che erano le risorse a disposizione, anno dopo anno, abbiamo cercato di investire molto sul territorio. Una delle prime opere che abbiamo fatto nel 2014, grazie a un cospicuo finanziamento ministeriale che era arrivato, siamo riusciti ad asfaltare gran parte delle strade comunali e a pavimentare il parcheggio della Reggia, un parcheggio che era, insomma, sterrato da diversi anni, siamo riusciti a renderlo migliore. Insieme alle opere di asfaltatura, poi negli anni abbiamo fatto anche tante altre opere, alcune anche in collaborazione con altri soggetti. Mi riferisco, ad esempio, ai lavori fatti grazie all'intervento di SMAT, con cui abbiamo collegato un'intera frazione che fino allora era stata collegata dall'impianto fognario, l'abbiamo collegata alla rete fognaria. Abbiamo rifatto delle grandi, delle grosse tratte di acquedotto e proprio adesso, sempre con la collaborazione di SMAT, stiamo facendo delle importanti opere di manutenzione sul serbatoio pensile di Piazza Pogionetto e contestualmente stiamo risistemando anche tutta quella che è la facciata esterna, quindi rendendo anche più gradevole l'aspetto di quello che è un edificio abbastanza importante e impattante sullo skyline del paese cercando appunto di migliorare anche l'immagine parallelamente alla funzionalità. Poi abbiamo operato molto in ambito idrogeologico perché diciamo a seguito di piccoli dissesti siamo riusciti anche grazie all'intervento della regione a fare delle sistemazioni idrauliche che hanno consentito in primo luogo di eliminare acque parassite dal sistema fognario e limitare, non ancora eliminare del tutto perché comunque è un lavoro lungo e anche difficile da perseguire in toto limitare il rischio di inondazione a causa dei forti temporali estivi che sono sempre più frequenti, sempre più intensi e siamo riusciti nella parte alta del paese a limitare questo problema. c'è ancora molto da fare ma qualcosa è stato fatto insomma delle opere sicuramente utili. Passando invece alla parte diciamo più edilizia abbiamo fatto anche qui delle importanti opere penso alla ristrutturazione del municipio l'ultima ristrutturazione risaliva al 1968 e 50 anni dopo abbiamo fatto il più grosso intervento ecco quindi tutto il rifacimento della facciata che versava in condizioni diciamo piuttosto faticenti con anche di stacchi di intonaco quindi anche con rischi per l'incolumità pubblica e parallelamente abbiamo fatto una sistemazione dei pavimenti interni e la riqualificazione energetica sostituendo i serramenti esterni quindi anche questo è un intervento importante sia dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista energetico perché si sono ridotti i consumi notevolmente grazie a questa sostituzione. E rimanendo in ambito di edifici un altro importante nodo è stato quello del salone polifunzionale che è un fiore all'occhiello che è un fiore all'occhiello sì è veramente anche per il territorio direi perché comunque non ce ne sono molti di quel calibro sì diciamo che saloni con diciamo di quelle dimensioni con la stessa gradevolezza estetica sono pochi effettivamente noi abbiamo puntato molto sul cercare di manutenerlo il più possibile abbiamo predisposto tutti i lavori edili per l'allestimento della cucina e finalmente a fine del 2018 abbiamo anche allestito una cucina che era effettivamente un qualcosa di mancante adesso è operativa da pochissimo e quindi siamo contenti di aver perseguito questo obiettivo e di averlo raggiunto che era uno degli obiettivi di questa legislatura. Parallelamente abbiamo anche eseguito tutta la sistemazione esterna sia del verde con introduzione di siepi, nuove piante insomma un contorno gradevole e la pavimentazione di tutta l'area pertinenziale con gli autobloccanti. questo grazie anche all'intervento di soggetti privati che ci hanno dato una mano e per questo ne abbiamo deciso di intitolare il salone che fino a poco tempo fa si chiamava Salone Alladium si cambierà nome, verrà intitolato all'architetto Franco Paglia che è scomparso 5 anni fa ma che insomma tanto ha fatto per il paese e proprio la progettazione del salone era stata donata da lui alla comunità quindi abbiamo deciso di intitolare a lui il salone abbiamo già annunciato questa intenzione nel mese di luglio scorso e nelle prossime settimane ci sarà appunto la parte ufficiale insieme anche all'intitolazione di una via al dottore Aldoroletto, storico medico condotto del comune sì, mi sembra giusto dedicare visto che ha donato la progettazione e ha fatto anche molte cose per il paese è stato organista della chiesa per diversi decenni è stato veramente una persona protagonista della vita all'adiese e ci è sembrato opportuno insomma ricordarlo così tributargli un ricordo anche intitolandogli questo salone sempre per il Salone Alladium è stato messo anche un cancello davanti un po' a chiusura però è l'unica parte, non è recintato intorno tolto la siepe che ovviamente deve infoltirsi c'è una delimitazione blanda nel senso che chiaramente non ci sembrava il caso di andare a delimitare con una recinzione impenetrabile non ce ne sarebbe stato bisogno però chiaramente un cancello per l'accesso e limitare l'accesso delle automobili era doveroso e quindi abbiamo inserito questo cancello anche questo donato dalla ditta MV di Cucceglio insomma a coronare un po' tutti gli altri lavori certo e poi la rotatoria non dimentichiamo per quanto concerne le opere pubbliche per quanto riguarda le opere la rotatoria in quell'incrocio protagonista di troppi scontri troppi scontri, troppi incidenti ci sono voluti dieci anni ma finalmente siamo riusciti a ottenere già più di un anno fa la realizzazione da parte della città metropolitana di una rotatoria provvisoria il comune ha provveduto all'illuminazione pubblica dell'incrocio e nelle prossime settimane ormai dovremo essere veramente a ridosso dell'inizio dei lavori definitivi da parte della città metropolitana quindi anche questo è un obiettivo semi raggiunto ma presto sarà raggiunto al 100% chiaramente l'incolumità delle persone che transitano sulla SP41 è importante di tutte le persone in particolare quello essendo un incrocio teatro di molti incidenti mi è sempre stato molto a cuore effettivamente il problema incidenti si è risolto adesso risolviamo la parte estetica facciamo diventare la rotatoria provvisoria definitiva questo succederà come dicevo a breve grazie alla città metropolitana e anche questo diciamo è un altro passo avanti per la viabilità non soltanto opere pubbliche quindi non soltanto edilizia urbanistica ma avete fatto anche cose per l'agricoltura quindi avete abbracciato non soltanto il settore diciamo prettamente cittadino ma anche quello agricolo certo assolutamente grazie al nostro consigliere delegato dell'agricoltura Massimo Bezzetti abbiamo sempre svolto un'attività di costante manutenzione di quelle che sono le infrastrutture in ambito agricolo quindi parliamo di fossi parliamo di strade rurali chiaramente la manutenzione del fosso oltre a garantire la possibilità di irrigare agli agricoltori garantisce anche una protezione in caso di alluvioni in caso di forti piogge per chi fossi oltre alla funzione irrigua hanno anche la funzione di scolo e quindi noi insomma ogni anno abbiamo portato avanti diciamo la realizzazione dei tratti di manutenzione più urgenti e in questa legislatura siamo riusciti a toccare quasi tutti i fossi pubblici quindi insomma sicuramente un buon risultato è analoga situazione per quanto riguarda le strade comunali sterrate che sono utilizzate per lo più per l'agricoltura che abbiamo sempre cercato di manutenere nel corso degli anni e in ambito agricolo un obiettivo che si interseca anche un po' col discorso che facevamo prima delle opere pubbliche è legato alla realizzazione del nuovo peso che naturalmente viene utilizzato prevalentemente dagli agricoltori avevamo un vecchio peso in piazza setificio che era ormai fattiscente ma soprattutto di dimensioni non più adeguate per pesare diciamo i rimorchi di grandi dimensioni e avevamo proprio l'idea di sostituirlo poi due anni fa sono subentrati dei problemi grossi che avrebbero portato dei costi di manutenzione sul vecchio peso e di conseguenza abbiamo preso la decisione in quel momento di partire con i lavori i lavori si stanno anche questi concludendo il peso è già stato realizzato dobbiamo solo più collegare la gettoniera e gli aspetti un pochino più di dettaglio ma anche questo tra qualche settimana sarà operativo in via Pollino nuovo peso che permetterà di avere capienze maggiori possibilità di pesare rimorchi e camion, tir e insomma anche la possibilità di avere dei metodi di pagamento più non solo a gettoni come si è sempre funzionato ma più moderni certo e cambiano argomento recentemente è stato ospite da noi il sindaco Andrea Zanusso di San Giorgio Canavese e abbiamo parlato delle tre terre canavesane di cui fa parte anche Allie assolutamente un grande progetto che con entusiasmo abbiamo portato avanti io con Andrea e il comune di Castellamonte progetto che è parito con la vecchia legislatura di Castellamonte che sta procedendo con diciamo con questa amministrazione nato con l'Expo con la volontà di insomma di riuscire ad entrare con qualcosa anche di piccolo ma di concreto rispetto a quella che era la dimensione enorme dell'Expo in poche settimane pochi mesi siamo riusciti a creare il progetto tra terre canavesane che abbiamo veicolato da un punto di vista comunicativo anche grazie a degli investimenti anche abbastanza importanti che hanno portato a un logo realizzato da Nespolo quindi nome di assoluto di primo piano nell'ambito artistico nazionale e accompagnato c'è una comunicazione accompagnata però da elementi concreti siamo partiti con gli eventi già esistenti che abbiamo fatto crescere sotto il cappello delle tre terre canavesane accompagnati sempre comunque da un leitmotiv culturale che legasse i tre comuni insomma abbiamo ottenuto dei grandi risultati parlando per Aglie ad esempio sotto il cappello di tre terre canavesane si è sviluppato ed è cresciuta la manifestazione Calici tra le stelle Calici tra le stelle è una manifestazione che è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni cerchiamo ogni anno di migliorare introducendo nuovi elementi in modo tale che la manifestazione possa essere sempre più appetibile per il pubblico e possa essere anche utile per il territorio perché non dimentichiamo che Calici tra le stelle nasce con la volontà di valorizzare i prodotti dell'enogastronomia locale andando a scegliere le eccellenze in merito alla produzione enologica quindi dell'area della DOCG dell'arbaluce di Caluso e andando a individuare dei produttori dei trasformatori agroalimentari con prodotti di nicchia che in qualche modo valorizzino il prodotto locale questa è una formula che ha funzionato che è piaciuta tanto la location è passata dal parco del castello alla piazza castello anche per diciamo avere maggiori spazi e rendere più più popolare questa manifestazione e l'accompagniamo ogni anno da diciamo un evento uno spettacolo che sta crescendo di anno in anno anche qui l'anno scorso avevamo abbiamo avuto Circo Vertigo per due anni quest'anno stiamo costruendo insomma stiamo imbastendo per far sì che la prossima amministrazione possa lavorare adeguatamente per per Carici Tra Le Stelle perché chiaramente i tempi di organizzazione sono piuttosto lunghi e quindi insomma speriamo di continuare a farla crescere il nostro obiettivo è quello di far sì che in quell'ambito possa diventare una manifestazione di riferimento per l'area cannavesana chiaramente magari anche un po' più in là chi lo sa Aliè poi avendo questa connotazione bellissima con il castello è prettamente turistica e quindi è giusto organizzare degli eventi anche saldi nel tempo consolidati nel tempo che facciano da attrattiva assolutamente il turismo lo si sviluppa anche grazie a questi eventi e in questo crediamo molto un altro evento ad esempio che organizziamo è la cena ducale certamente dobbiamo pensare che i nostri poli attrattori ci sono sono importanti sono il castello Ducale Villa Meleto l'enogastronomia locale però vanno messi insieme ad Agliece è un tessuto associativo molto forte di cui vado molto orgoglioso a partire dalla Proloco e da tante associazioni che si danno da fare per cercare di organizzare delle manifestazioni sempre tutte con l'unico obiettivo di far arrivare gente nuova in paese questo è molto importante non è scontato e insomma sono contento di aver stabilito questa bella collaborazione tra le tante associazioni perché tra tutti riusciamo veramente a coprire in tutto l'arco dell'anno tutta una serie di manifestazioni importanti per sempre contribuire allo sviluppo turistico di Agliece mi parli di turismo e mi viene spontaneo parlare di quello che è la nostra partecipazione alle bandiere arancioni del Touring Club per noi è stato un riconoscimento fondamentale importantissimo per il quale devo ringraziare sicuramente il mio consigliere delegato al turismo Silvia Maffeo e il vice sindaco Stefania Chivino e il resto della giunta perché abbiamo lavorato a fondo per realizzare diciamo rispondere al bando per poter entrare nei comuni bandiere arancioni è stato un lavoro lungo difficile perché i parametri che vanno rispettati per poter entrare in questo circuito sono veramente rigidi fatti anche di visite a sorpresa di cui noi non sapevamo assolutamente e quindi il fatto di aver ottenuto il riconoscimento bandiere arancione che è uno dei più importanti riconoscimenti a livello turistico a livello internazionale per noi è stato motivo di grande gratificazione soprattutto considerando il fatto che sono meno di 30 i comuni in tutto il Piemonte di cui 4-5 in provincia di Torino quindi questo va a valorizzare ulteriormente il valore di diciamo di questa di questo riconoscimento che comunque ci porta anch'esso a un incremento dello sviluppo turistico perché molti avventori comunque si basano sulla certificazione di soggetti come appunto il touring essendo noi certificati come bandiere arancione diventiamo decisamente più appetibili e abbiamo comunque visto un discreto miglioramento del flusso turistico ovviamente noi continuiamo a lavorare per continuare a migliorarci perché insomma non bisogna mai fermarsi però questo è stato sicuramente un bel obiettivo raggiunto che ci ha gratificato molto un'altra cosa a cui partecipa gli Ecom Uniferiti sì anche qui la mia consigliera Silvia Maffeo appassionata di una donna col pollice verde ha portato avanti questa iniziativa e che anche essa aiuta ad abbellire il paese organizzare un concorso che mette in sana competizione i privati nell'abbellire i balconi a fronte poi di un premio chiaramente aiuta all'abbellimento di tutta l'immagine del comune e parallelamente noi per quello che possiamo cerchiamo di abbellire le EUO le aree pubbliche in maniera tale da rendere il comune più fiorito più appetibile sia per i turisti ma anche per gli alladiesi perché anche il cittadino alladiese che si fa una passeggiata chiaramente avrà gradire di più passeggiare vicino a una juola fiorita che in una juola incolta e quindi insomma è un progetto a cui teniamo e che assolutamente portiamo avanti e che va di pari passo e mi collego anche un po' con la parte istruzione con l'ortodidattico che abbiamo promosso e stiamo sviluppando ogni anno con le scuole e che ha l'obiettivo di insegnare ai bambini un po' come come si coltiva la piantina dell'insalata la fragola piuttosto che una qualsiasi verdura ed è un progetto che insomma piace molto piace molto ai bambini piace molto alle famiglie piace molto alle scuole e ritengo che abbia un valore didattico importante perché se il bambino sa da dove arriva la piantina di insalata che mangia poi magari a casa sarà qualcosa che gli rimane e sarà nel suo bagaglio culturale per tutta la vita senza dubbio molto educativo perché possono vedere da dove da dove nascono le piantine poi sono veramente deliziosi quando le vedi con i piccoli annafatoi cultura e istruzione come hai detto tu vanno di pari passo di fatto mi ha parlato dell'orto didattico non soltanto progetti didattici ma anche progetti non progetti opere diciamo scolastiche quindi rivolte alla struttura scolastica quindi alla scuola certo avete rinnovato avete effettuato delle opere di manutenzione per la scuola assolutamente abbiamo diciamo le opere di manutenzione principali si sono sono consistite nell'ammodernamento dei bagni la nostra scuola dei primi anni 30 insomma messa molto bene pur avendo 80 anni più di 80 anni però i bagni iniziavano avere qualche problema e li abbiamo modernati e poi l'altro intervento importante che ha portato poi alla creazione della biblioteca civica e scolastica è la ristrutturazione dei locali destinati al un tempo destinati ai custodi abbiamo li abbiamo ristrutturati abbiamo rinforzato strutturalmente i solai le travi in modo tale da renderli adatti per accogliere una biblioteca e poi con la collaborazione della scuola perché è stato un progetto veramente condiviso a tutti i livelli siamo riusciti a ottenere diversi finanziamenti dal MIUR dalla fondazione CRT anche noi come comune abbiamo messo la nostra parte e con l'impegno da una parte della scuola grazie al dirigente scolastico Federico Morgando l'insegnante fiduciario Antonella Masiero e il mio consigliere delegato all'istruzione e alla cultura Claudio Scavarda siamo riusciti a costruire un progetto che è durato quasi cinque anni proprio siamo partiti dall'alloggio dei custodi da ristrutturare e siamo arrivati ad una biblioteca multimediale comunque con tanti anche libri cartacei ma non solo la presenza di LIM collegati alla biblioteca ad utilizzo dei bambini delle scuole che ritengo essere anche questo un fiore all'occhiello perché purtroppo le biblioteche negli ultimi anni anche ad Aglie fino a poco tempo fa tendono a sparire la frequentazione delle biblioteche complice anche il fatto che magari non sono più così aggiornate è prossima allo zero con questo nuovo progetto siamo riusciti a portare nuovo interesse rinnovato interesse verso l'utilizzo della biblioteca sia da parte degli utenti esterni ma soprattutto dei bambini perché essendo adiacente alla scuola i bambini possono andare in qualsiasi momento a prendere dei libri utilizzare i libri e i prodotti tecnologici presenti all'interno perché abbiamo degli ebook abbiamo del abbiamo pc abbiamo macchine fotografiche videocamere biblioteche all'avanguardia tablet abbiamo veramente di tutto e questo insomma ha dessato molto l'interesse anche dei bambini delle insegnanti vediamo che è molto utilizzata gestita da volontarie insomma funziona tutto quindi siamo contentissimi di questo quando uno mette tanto impegno e poi vede che il prodotto del proprio impegno viene utilizzato ed apprezzato chiaramente è molto gradevole impegno è stato messo anche nel sociale sì assolutamente la stessa persona che ha condotto la parte di cultura e istruzione quindi il consigliere delegato Scavarda si è impegnato anche molto nel sociale avendo fatto parte del tavolo di presidenza del consorzio in rete per tutti questi anni e abbiamo portato diversi diversi progetti per diciamo le persone che potevano aver bisogno uno su tutti che mi viene in mente che va di portare come esempio è il progetto di inclusione attiva che è stato anche seguito appunto dal oltre che dal consigliere anche dal vice sindaco che l'ha coordinato in toto con gli uffici un progetto che ha previsto da parte nostra la creazione di un capitolo di bilancio di qualche migliaio di euro da destinare a persone con difficoltà che potessero prestare qualche ora del loro tempo al comune per piccoli lavori di manutenzione in modo tale insomma da renderli un pochino anche autonomi rispetto alla vita di tutti i giorni che così può non basarsi più solo sull'assistenzialismo un progetto che ha funzionato bene siamo il secondo anno abbiamo potuto aiutare diverse persone e insomma anche questo ritengo che sia importante per dare un segnale nei confronti appunto di chi magari è un po' meno fortunato ha avuto delle difficoltà e che cerchiamo in qualche modo di aiutare si può dire tanti temi affrontati in questi cinque anni ma nessuno secondario all'altro tutti comunque di per importanza no assolutamente secondo me il grande vantaggio ritorno all'inizio di questa intervista il fatto di avere dato insomma deleghe e spazio ognuno sul suo settore ha avuto ampi spazi per poter realizzare quello che più riteneva chiaramente sempre confrontandosi con il resto del gruppo però quello che si riteneva utile veniva portato avanti e questo ha fatto sì che ognuno potesse mettere il tempo a propria disposizione focalizzato su un argomento e quindi avere dei bei risultati che come hai detto tu sono assolutamente di pari livello chiaramente ci si confronta sempre su quelle che sono poi le risorse finanziarie però spesso si sottovaluta le risorse di tempo a disposizione perché mi sono reso conto in questi anni che non è sufficiente a volte avere i soldi ma bisogna avere il tempo per gestire e capire come spenderli che è una questione che non sempre viene considerata tanto e avere il tempo a volte può essere anche un elemento prioritario rispetto alle risorse economiche sembra un po' paradossale però per certi progetti può essere così possiamo dire che in questi cinque anni avete raggiunto quasi tutti gli obiettivi che avevate prefissati o ne sono rimasti parecchi pochi giorni fa ho sfogliato il programma elettorale e molti obiettivi sono stati realizzati assolutamente qualcuno non è stato realizzato come insomma è normale che sia chiaramente uno fa delle previsioni che poi si scontrano con quella che è poi la quotidianità quando uno fa delle previsioni in termini di programma non può tenere conto di quelle che sono le emergenze che succedono quotidianamente e non può tenere conto di quelli che possono anche essere degli elementi magari di finanziamento esterno che possono poi chiaramente far cambiare le priorità però devo dire che il programma è per gran parte stato rispettato quindi di questo sono molto contento ci sono delle cose da migliorare perché è normale che sia così quello che è stato costruito può essere migliorato e noi insomma stiamo ancora lavorando per questo abbiamo ancora gli ultimi mesi per cercare di fare il meglio possibile concludere al meglio questa legislatura e per lasciare nuove indicazioni a quella che sarà la nuova amministrazione che potrebbe anche essere di nuovo potrebbe anche essere nostra non sappiamo lo sapremo nel senso che comunque vi ricandiderete sì sì il nostro gruppo sarà presente insomma però noi ragioniamo adesso in termini di questa legislatura chiaramente cerchiamo comunque di predisporre un terreno fertile per chiunque arrivi dopo il 26 maggio saremo noi non ci saremo noi ma sicuramente lasciamo un aglie un pochino migliore insomma è un nuovo punto di partenza per altre sfide perché chiaramente il raggiungimento della qualità è un concetto dinamico si arriva ad un punto e si trovano altri obiettivi da raggiungere quindi insomma l'auspicio è quello che anche per la prossima legislatura chiunque ci sia si possa fare del bene per il paese che è poi la cosa più importante prima abbiamo toccato solo forse non abbiamo più tempo però brevemente abbiamo solo toccato la questione l'ambiente si lotta alle zanzare Ethernet si lotta alle zanzare che portiamo avanti da anni per cercare insomma di limitare quello che è un grosso fastidio quello della presenza delle zanzare che poi insomma con le stagioni molto più umide degli ultimi anni si è anche accentuato parecchio per quanto riguarda l'Ethernet abbiamo partecipato ad un ad un bando regionale siamo riusciti ad ottenere un finanziamento e in questi mesi si sta portando avanti appunto nei confronti dei privati questa campagna in cui grazie a questo finanziamento riusciamo a coprire i costi di smaltimento quindi il privato può smaltirsi in manufatto contenente amianto secondo le regole previste dalla legge autonomamente o con o con un'impresa e noi come comune possiamo occuparci dello smaltimento quindi anche per migliorare un pochino questo aspetto l'Ethernet non è ancora obbligatorio rimuoverlo però se lo rimuoviamo è meglio per la salute di tutti noi bene grazie al sindaco Marco Succio grazie a te Magda per essere stati con noi e continuate a seguirci a presto grazie a te Magda grazie a te Magda